Buonasera a tutti da Carlo, Davies, Nani, Timona e Demo, e Dorme, allora quello che devo dire adesso Qua si chiama Zombies, ma io, anche Davies ce lo ricordiamo come Zombie 8 Mine 8 Books, cioè gli zombie hanno mangiato i miei vicini in casa E' bello, c'è già, si può giocare in due multiple, si può giocare in due, allora, allora, aspetta, diciamo due cose di questo gioco Eh, allora, questo gioco è un gioco della Konami, pubblicato da LucasArts, è uscito nel 1993 Io me lo ricordo anche in Galerai, in Zalata E niente, ci sono tantissimi livelli, una cinquantina, e niente, bisogna salvare le persone I vicini di questo qui, all'inizio specialmente, e uccidere zombie, mostri vari, che spuntano a caso Non penso che ci sia una trama, è a caso E' a caso, devi salvare un tot per una percentuale, perché se te ne muoiono troppi, perdi, non fate l'esatto Cercare di salvare, perché sennò, ciao E l'altra cosa è, in molti di questi giochi, c'erano un sacco di, come si dice, di password, non potevi salvare il gioco C'è qua password, attacca ora Sì, anche questo, non potevi mica salvare quando vuoi Quando finivi un livello, ti dobbiamo annotare la password Sì, è certo, è facile E comunque c'è una gran varietà di mostri Che rendeva la cosa molto divertente rispetto al solito Sì, monotone, esatto Allora, vediamo un po' C'è già comunque dei personaggi Anico E che sono? Guarda, tipo C'è non un'arma C'è non un'arma Siamo, non tali che spariamo con le persone No, no Spari le tavole No, no, è un mito No, 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 è un mito No, ho mangiato il cervello A presto No, no, no Ah No Il bruto Ci vai proprio a sparare Tu in là in là In là in là In là in là T'in là Ah, c'è la Sì, non c'è No, no Si può vedere cosa fa La Quindi se facciamo il codio La Ma chi è vero qui La Vabbè 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 è bellissima chi ha? comunque quella è la partenza di ogni livello ma io c'è un po' più da una specifiche gigante oh cos'è? mo l'itero? no, andiamo a destra no, perché non sarebbe un'altra tavola no, un'altra tavola no, queste sono le bombe ah, ma... io ho le bombe ma non ho il mitra non si fa a cambiare altro non ho il rato mi non piace l'infero la rimado non ho i ritrovati non ho lato non ho i ritrovati non ho i ritrovati non ho il ritrovato non ho saltato ora non miro sono le dimentico hanno un po' un po' perciò non ho perciò avondare perciò loro suonare la suonare 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 sul qui suonare ... 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 con la micra ... ... ... ... livello 2 l'alba dei modi l'alba dei modi uscita è capito come si stava come si stava la sua muovo non faccio vado per questo inserito di Sì, ce l'ha sentito Ho trovato 8 di soldi Ci riede Ne manca uno, se non sbaglio che si stanno per montarli Questa è più forte, forse sono stati più veloci Questi personaggi, mi hai salvato? C'è un bonus, in base a quanti li sa? Livello 3 Errore in... Ossia, in qualcosa Ah, bello, ci sono dei civi particolari Se non sbaglio ci sono tutte Delle bambole sennine Scusate 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 C'è, un buvezco Scusate Eccoli qua, andrò qua Ok, 3 da salvare Saranno di sotto 1, 2 2 1 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 15 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 20 23 23 24 24 23 24 24 25 25 25 25 no, io non mi parlo ok, non scherzavo no, si, non si parli fare ah, quel pazucca però non si parla, non si parla vale, non hai no, dove si sa? questo è vero no, no, questo è tammazzo a 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